Ad aprire questo super uvetto No amore, non si può mangiare la cioccolata Gli animali Esus A-S-F-R Salve, buongiorno Come state? Spero tutto, tutto, tutto bene Allora oggi, come avete ben capito Andremo ad aprire questo fantastico uovo Inoltre ho rifatto le unghitte E spero che vi piacciono In stile pasquale Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono Se le faccio io le unghie Allora cominciamo ad aprire questo super uvetto Non so se ci sia una sorpresa dentro Non lo so Comunque lo andremo ad aprire E andrò a mangiarmelo tutto, tutto, tutto insieme a lui E vabbè non è grandissimo Quindi è un uvipido piccolino Allora cominciamo Siediamo un po' Qua abbiamo dello scotch Beh, strappiamo Ok, abbiamo questo bel filetto Che può servire sempre Questo bel filetto Che può servire sempre Ok Questa carta è fantastica Tra l'altro Il fucsia io Lo adoro come colore Il fucsia io Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Sicuramente questa carta la reciclerò per fare dei regali perché è fantastica, è un bel colore e può venire utile per Natale, per fare i regali di Natale o qualche compleanno. La metto qua perché sta già arrivando un sostituto. Ecco, sta arrivando qua a trovarvi una persona e adesso mi sta venendo a trovare questa persona. Comunque, quello che troviamo all'interno è questo bellissimo uovo. Eccolo qua che è arrivato ragazzi, è arrivato anche Zeus a salutarci. Questo fantastico uovo. No amore, non si può mangiare la cioccolata. Gli animali non possono mangiarla. Sentite. Eccolo qua. Questo è il bicchierino che anche questo lo potete usare come misurino per l'amorbidente o il detersivo o qualsiasi altro cosa che potete provare ad usare. Ok, allora, adesso andrò a mangiare questo fantastico uovo. Allora, allora lo andiamo ad aprire. Se riesco. Ecco. Ragazzi, all'interno c'è qualcosa. Ma c'è una sorpresa all'interno. Cos'è? Oddio. Vediamo. Oddio, 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 che bello. Guardate che carino. Bellissimo questo pupazzetto qua. Non saprei se è un orsetto o un gattino. Sembra un sacchiotino. Guardate quanto è carino. È bellissimo. È fantastico. Guardate quanto è bello. Qua dentro troviamo questa è una pallina che potete dare anche al gatto da giocare. Troviamo le istruzioni. A solito. Bene, adesso è arrivato il momento più importante, più atteso. Penso anche da voi andremo a mangiare il nostro uovo. Molto buono. Molto buono. E' una maгор�lata in un errore. E' di più. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. buonissimo proprio buono devo dire che è buonissimo è buonissimo Sì, sì. Sì Sì Ma ragazzi Questo uovo era divino Avevo proprio fame Proprio buono Era latte buonissimo Allora io volevo augurarvi Buone feste pasquali a tutti E una buona giornata E arrivederci Al mio prossimo video Ciao